La linea spezzata è il titolo di questo libro, ce ne parli un po' Fabrizio? Sì, anch'io ancora, non ho avuto l'onore e il piacere di leggere, infatti come ti dicevo prima non vedo l'ora perché parla di Flavio, ci sono anche dentro degli inediti di tutti gli allenatori che ho avuto, amici e quant'altro quindi sicuramente sarà bello, diciamo tra virgolette, leggerlo, ecco, è un altro passo che è stato fatto da questa associazione e dalla moglie che ha avuto questo desiderio e Massimo l'ha aiutata a realizzarlo, la moglie e la famiglia, insieme alla famiglia. Come è natale l'idea di realizzare questo libro? Penso proprio Venere, Venere aveva questo desiderio perché poi so che lei è stata anche in contatto con la moglie del giocatore di pallavolo quindi Venere si è messa in contatto con la moglie Perché lui fu troppo scomparso in campo di una tre partita di campionato Sì, anche lui, la stessa cosa e quindi so, poi Venere ha questo desiderio e ce l'abbiamo fatta a realizzarlo, ecco Grazie